Ciao a tutti ed ecco a voi le 10 migliori serie del 2022. Il 2022 è stato indubbiamente un anno ricchissimo di prodotti seriali, alcuni straordinari, altri nella media, altri un po'... E quindi ecco a voi i 10 migliori secondo me, o meglio sarebbe dire i miei 10 prodotti seriali preferiti usciti nel 2022, che sono quelli non per forza migliori da un punto di vista qualitativo, ma che vi hanno colpito di più, che hanno lasciato maggiormente un segno nel mio cuore, nella mia mente, nel mio hype, insomma sarà un bel viaggio quello di questa top 10, se così possiamo definirla, assieme poi ad alcune menzioni d'onore, magari singoli episodi di alcune serie, singoli momenti, singoli avvenimenti, insomma. Siete pronti? Potrete trovare anche dei consigli molto interessanti, perché quelle che vi racconterò in questo video non saranno solo ed esclusivamente le serie fenomeno pop del momento, quindi partiamo. Ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare, voi riscrivetevi ai canali YouTube di Cosmopolina, cliccando su Stasino, iscrivete, attivando la campanella delle notifiche, anche su cellulare, che è sempre una cosa importantissima. E se volete supportarmi oltre che sopportarmi, trovate un sacco di modi meravigliosi in descrizione a questo video, come il mio podcast Super Gaffa Sale, Rapitore di Gatti, la mia wishlist Amazon se volete farmi un regalo, andate a vedere che cosa vi garantisce il mio codice personale COSMO su Pampling, sito di magliette e articoli nerd, non ne resterete delusi. Oh no, bene, ciancio le bande, what the? Quanti inizi seriali stratosferici in questo 2022, e anche alcuni finali stratosferici, perché nel corso dell'anno ho dovuto dire addio a due delle mie serie preferite in assoluto. E sto parlando di Better Call Saul, con la sua sesta stagione, e The Last Kingdom, con la quinta stagione. Partiamo da The Last Kingdom. Era stata cancellata la seconda stagione, poi è stata invece presa e rinnovata da Netflix, che le ha permesso appunto di arrivare a un finale, un finale incredibilmente soddisfacente, che mi ha fatto piangere tantissimo, e che dà quel senso di perfetta circolarità, e una vera e propria conclusione, davvero ben fatta. Che cosa racconta The Last Kingdom? Chiaramente senza spoiler. Le avventure di Uthred of Babanburg, questo vichingo che deve riappropriarsi della sua dimora, che gli spetta di diritto, di cui in realtà si è appropriato un parente serpente. Ecco, durante le sue avventure, Uthred incontrerà i re inglesi, con cui stringerà alleanze più o meno costruttive, un personaggio, quello di Uthred, del protagonista davvero interessante, davvero sfaccettato, e per quanto sicuramente ci siano alcuni momenti un po' zarri, e a volte anche un pochino, tre sciotti, The Last Kingdom riuscirà a garantirvi un sacco di divertimento, anche un po' di approfondimento storico, e insomma, guardatela, se non l'avete mai vista, guardatela, intanto vi lascio qua sopra il video a riguardo, è un viaggio bellissimo, quello di The Last Kingdom, che dura cinque stagioni, perciò iniziate non appena potete, la trovate su Netflix. Altro finale, mamma mia che finale, un finale pazzesco, quello rappresentato dalla sesta stagione di Better Calls, serie AMC, esattamente come Breaking Bad, la trovate su Netflix, e racconta le avventure di Jimmy McGill, ovvero Saul Goodman, l'avvocato, un po' così, insomma, non molto, campionissimo di etica e morale, che conosciamo per la prima volta in Breaking Bad. Parte come spin-off di una delle serie migliori della storia della serialità televisiva, barra streaming, e forse riesce a superare Breaking Bad, non lo so, non saprei rispondervi alla domanda è meglio Better Calls Soul o Breaking Bad, sono due prodotti che per quanto simili, e per quanto ambientati all'interno dello stesso mondo, in epoche diverse, sono molto diverse, perché raccontare, insomma, la vita di Walter White, ci ha portato qualcosa, ma raccontare la vita di Jimmy McGill, ci ha portato decisamente altro, io adoro tantissimo tutti i personaggi, che abbiamo conosciuto all'interno di Better Calls Soul, l'ultima stagione, ti strappa l'anima in tanti pezzettini, e quasi ti fa venire voglia, di vederlo subito al finale, di sapere subito come andrà a finire, sapendo che poi te ne pentirai, perché la volta che avrai visto l'ultimo episodio, dell'ultima stagione di Better Calls Soul, dovrei dire addio a Jimmy McGill e tutti gli altri splendidi personaggi di questa serie, che non sono solo dei personaggi, sono talmente stratificati, talmente ben raccontati, che sono delle vere e proprie persone, che potresti incontrare andando a fare la spesa, se abiti a Albuquerque, chiaramente se abiti a Milano o in Italia, molto probabilmente no, Better Calls Soul è straordinaria, straordinaria, quanto mi ha emozionato, quanto mi ha coinvolto, quanto mi ha divertito, quanto mi ha fatto riflettere, quanto mi ha fatto discutere con altre persone, che guardavano la serie, insomma veramente un capolavoro, non si può usare con leggerezza la parola capolavoro, ma io sento di usarla davvero con consapevolezza, se la affianco a un titolo come Better Calls Soul, Better Calls Soul che tra l'altro ha visto la sua ultima stagione divisa in due parti, e non è l'unico prodotto all'interno di questa mia sorta di top ten, che ha visto una sua stagione, non l'ultima però, divisa in due parti, sempre Netflix, quindi la piattaforma streaming delle meraviglie, quando si impegna però, e parlo di Stranger Things. Io sono una grandissima fan del mondo creato dai Duffer Brothers, perché soprattutto adoro vedere prodotti di genere, prodotti fantastici, che non sono adattamenti di libri, di videogiochi, di fumetti, che escono proprio dalla mente di due cervellini super creativi, e super what up come quelli dei Duffer Brothers. Le cose si stanno facendo davvero dure, nel mondo dei nostri amici di Stranger Things, e se pensavamo che le minacce affrontate fino a ora, fossero terribili, beh, teniamoci forte per questa quarta stagione. Veramente in questa quarta stagione, io ho temuto tantissimo per tutti quanti, e per quanto per me sia una stagione straordinaria, super epica, meravigliosa, divertentissima, nonostante la durata abbastanza tosta degli episodi, ragazzi, io davvero non vedo l'ora che arrivi la quinta e ultima stagione, e so che me ne pentirò, perché appunto poi come con Better Call Saul, non ci saranno più episodi di Stranger Things, però ragazzi ho un hype addosso, ho un hype, chissà cosa succederà dopo quello che accade nel finale della quarta stagione, cosa potranno fare i nostri personaggi del cuore, cosa succederà, e comunque questa quarta stagione di Stranger Things, so che è entrata nel corazón di tutti quanti, perché con un personaggio pazzesco, adoratissimo, amatissimo, come Eddie, cioè per me i Duffer Brothers con Stranger Things hanno vinto tutto, una stagione strepitosa per una serie davvero strepitosa, sempre restando su Netflix, passiamo da un vero e proprio fenomeno pop, ovvero Stranger Things, a una serie che secondo me non conosce nessuno, che proprio più indie non si può, sto parlando di Russian Doll, per ora composta da due stagioni, la seconda stagione è uscita appunto quest'anno, che cosa racconta Russian Doll? È molto difficile dirvelo, il primo episodio della prima stagione vi sembrerà tutt'altro rispetto a quello che poi si rivela essere la serie, sappiate che non è soltanto quello che vedete nel primo episodio, e si rivelerà una serie di fantascienza, lo so, sembra impossibile, ma fidatevi di me, la seconda stagione va ulteriormente a approfondire ciò che c'è stato raccontato nella prima stagione, e le avventure della protagonista si fanno sempre più tese, sempre più acchiappanti, e sempre più pericolose per la sua vita, perché non bisogna mai giocare con l'equilibrio dello spazio-tempo, con i suoi sette episodi, la seconda stagione di Russian Doll ci racconta un capitolo della storia molto tosto, ma ce lo racconta con uno spirito, un guizzo, una capacità, un approfondimento, senza essere mai pesante, veramente incredibile, insomma è una serie Russian Doll di cui non vi posso dire di più, perché altrimenti farei un sacco di spoiler, però ci sono dei personaggi molto fighi, la protagonista è molto stratificata, ha relazioni veramente intense con personaggi che conosceremo nel corso di queste due stagioni, e se volete anche un prodotto che mette alla prova le vostre sinapsi, non tipo Darko 1899, in una maniera più contenuta, in una maniera più intima, ma comunque sempre molto challenging, buttatevi su Russian Doll, un prodotto indie profondo, meraviglioso, che sarà difficile dimenticare, veramente Russian Doll è un prodotto che non conosce nessuno, ma di cui invece dovremo parlare tutti quanti, perché c'è veramente tantissimo da dire, sotto tutti i punti di vista, vi commuoverà, vi divertirà, vi farà arrabbiare, vi farà tifare per la protagonista, e venire pure voglia di tirarle delle testate, sapete ogni tanto, quindi sì, Russian Doll nel cuore, questo è l'ultimo prodotto Netflix all'interno della mia top 10, andiamo un po' a esplorare le altre piattaforme streaming, a cominciare da Disney Plus, su Disney Plus vi devo consigliare con tutto il mio corazón, una miniserie, ovvero The Dropout, otto episodi in cui una straordinaria stratosferica Amanda Seyfried, interpreta una protagonista alquanto controversa, si rifà a persone vere, accadimenti veri, avvenuti tra l'altro non tanto tempo fa, e racconta l'ascesa e la rovina, la disfatta di una giovane scienziata, di una giovane cervellona, insomma di una donna che vuole cercare di cambiare il mondo a modo suo, mette su una start up, si impegna con tutta se stessa per cercare appunto di cambiare il mondo, d'altronde è quello che vogliono fare tutti nella Silicon Valley, no? Ci riuscirà? Oppure no? Spoiler, no. E ce lo mostra anche proprio l'inizio del primo episodio, perciò con questa consapevolezza, sarà ancora più ammaliante, inquietante, vedere la sua ascesa all'Olimpo, per poi assistere alla sua rovinosa disfatta, in quella che è una delle truffe più grandi nella storia della Silicon Valley, ma quanto la protagonista sapeva di truffare gli altri, quanto ne era moralmente eticamente consapevole, quanto voleva davvero raggiungere quell'apice di terribilanza che è riuscita a raggiungere. Insomma, ci sono un sacco di interrogativi che vi porrete fino alla fine e vi porrete anche dopo aver visto la serie. Veramente un prodotto che mi ha fatto riflettere un sacco, su tantissimi punti di vista, e che mi è rimasta molto dentro, ogni tanto ci penso, sapete, a The Dropout, quindi ve la consiglio tantissimo nel caso in cui non l'aveste ancora vista. è una miniserie, quindi non ci saranno altre stagioni. Finisce con la fine dell'ultimo episodio, dell'ottavo. Inoltre spinge anche a varie riflessioni sulla figura della donna all'interno di mondi che sono prettamente maschili, a quello che le donne devono fare e soprattutto non devono fare per il loro bene, ma in particolar modo per il bene di tutte le altre donne. Insomma, veramente una serie che vi aprirà il cervello e lo farà girare. Non è una serie complessa, è una serie molto lineare, ma estremamente stimolante, sapete? C'è un'altra serie estremamente stimolante su Disney+, ma per altri motivi totalmente. Sto parlando di Only Murders in the Building, straordinaria, comedy super brillante, super elegante, super wow, che vede l'uscita della sua seconda stagione proprio durante il 2022 su Disney+. Per quanto questa seconda stagione, secondo me lasci meno il segno della prima stagione, ragazzi, in questi dieci episodi ci vengono consegnate alcune perle veramente meravigliose. Un finale come quello della seconda stagione di Only Murders in the Building, dove lo troviamo? Dove lo troviamo? Questa straordinaria comedy scritta da Steve Martin e interpretata da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, ha uno spazio dedicato nel mio cuore. Attendo la terza stagione, soprattutto poi vedendo il finalissimo della seconda stagione, manco fosse Natale, decisamente lo attendo più del Natale, sapete il Natale è un po' sopravvalutato, ma Only Murders in the Building no. Quindi veramente che dirvi? Che dirvi di Only Murders in the Building? Abbiamo gli abitanti di questo condominio che si ritrovano per la passione dei podcast crime, ovvero quei podcast che indagano su casi apparentemente irrisolti, o sì, proprio irrisolti, e quando un crimine avviene all'interno del loro palazzo si mettono insieme, ovvero Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, per creare un loro podcast che intitolano appunto Only Murders in the Building, solo assassini in questo palazzo. Bellissima assistere alle loro indagini strampalate, ai loro momenti strampalati, è tutto così dannatamente figo in questa serie, se non l'avete ancora recuperata per piacere, fatelo, sapete che io vi martello sempre con Only Murders in the Building e non ve ne pentirete, non ve ne pentirete, una serie meravigliosa di cui purtroppo non si parla abbastanza. E sempre su Disney Plus c'è un'altra serie meravigliosa di cui ahimè non si è parlato abbastanza e soprattutto non ha ricevuto abbastanza buzz sui social, abbastanza visioni dal pubblico, sto parlando di Andor, sì, mai più avrei pensato di mettere una serie Star Wars su Disney Plus nella mia top ten dell'anno, ma Andor oltre a essere la miglior serie Star Wars su Disney Plus secondo me è la miglior serie appartenente a un franchise di grande successo originale Disney Plus. Non c'è serie Star Wars, non c'è serie Marvel che possa competere con Andor. Andor è una vera e propria serie, è un prodotto di serie A, anzi, racconta la storia di Cassian Andor prima di ciò che gli accade in Rogue One e questo vi basti sapere. Cassian Andor è sempre interpretato da Diego Luna, ci sono un sacco di attori interessanti, anche un sacco di attori noti all'interno di questa serie, composta per ora dalla prima stagione di 12 episodi. Sì, non fatevi spaventare dal numero degli episodi perché è organizzata a archi narrativi ed è anche la struttura molto interessante. Avrete dei momenti, cioè io davvero Andor l'ho amata tantissimo, mi ha tenuto col fiato sospeso, cioè una serie che è veramente una tortura essere costretti a vedere un episodio a settimana. Mamma mia, è riuscita a farmi interessare, affezionare, provare, sentimenti verso personaggi che in qualunque altra serie quasi sarebbero stati inutili. È bellissima Andor, mi è piaciuta da morire, mai più avrei pensato, anzi dopo quella delusione ambulante che è stata Obi-Wan Kenobi dicevo ma Andor ma che me ne frega di Andor, non la guarderò mai. E invece, e invece se anche voi avete compiuto questo errore, perché questo pensiero è decisamente un errore, recuperate la prima stagione di Andor. Sarà composta la serie da un'altra stagione che uscirà prossimamente e andrà a concludere le avventure di Cassian Andor e andrà poi chiaramente anche a confluire nelle vicende raccontate da il film Rogue One. Mamma mia che viaggio, mamma mia che personaggi, mamma mia che tensione, anche una regia in certi momenti, ma anche un utilizzo super sapiente di ogni singolo centesimo di budget, anche gli effetti visivi sono strafighi, non sembrano di una serie streaming, sembrano proprio di un film, veramente incredibile Andor. Il prodotto tra questi dieci che è partito più svantaggiato di tutti, ma che è riuscito a conquistarmi mente e corpo, uh la la. Passiamo adesso a HBO, o meglio in Italia, Sky, perché ritorna il mondo di Martin, sì, il mondo di Game of Thrones, con il suo spin-off prequel, ovvero House of the Dragon. Sì, la famiglia dei Targaryen si mostra in uno dei momenti più sanguinari e sanguinosi della sua storia, sto parlando della danza dei draghi. In questa prima stagione, composta da dieci episodi, vengono raccontati, insomma, tutti gli avvenimenti che dobbiamo conoscere prima che la danza dei draghi inizi sul serio. E che cos'è la danza dei draghi? Semplice, Targaryen contro Targaryen che si fanno fuori e per chi dovrà sedersi sull'ambitissimo trono di spade. Cos'altro? Se no, sangue, scescio, violenza, what the? E molti momenti davvero straordinari. C'è una teatralità, ma nel senso migliore della parola, all'interno della prima stagione di House of the Dragon, veramente incredibili. Delle interpretazioni veramente incredibili. Ci sono anche dei momenti che mi hanno lasciato un po' mmm, ok, però quello che c'è di figo nella prima stagione di House of the Dragon va veramente a controbilanciare tutto. Certo, ciò che ci ha suscitato gli ultimi episodi del trono di spade nessuno riuscirà mai a cancellarcelo dal cervello, purtroppo. Tuttavia, House of the Dragon ci racconta di nuovo Westeros nel modo migliore possibile. Perciò sì, è possibile una ripresa per il mondo di Martin su HBO e in Italia su Sky e House of the Dragon ce lo dimostra con tutti i suoi dieci episodi che vanno a comporre una straordinaria prima stagione. Ne ho parlato diffusamente sul canale con un video a episodio e anche varie live, insomma, un'avventura pazzesca che mai più avrei pensato sarebbe riuscita a convincermi così tanto dopo il trauma della stagione 8 di Game of Thrones. Quindi, evviva House of the Dragon. Adesso passiamo alla piattaforma streaming più, diciamo, di micchia in assoluto che è riuscita a sganciare in questo 2022 delle bombettine mica da poco. Sto parlando di Apple TV Plus e i prodotti sono Scissione e Slow Horses. Sono due prodotti molto diversi che non c'entrano niente l'uno con l'altro ma sono forse quelli che mi hanno affascinato di più di tutto l'anno quindi Apple TV Plus è davvero una piattaforma da tenere d'occhio. Scissione ok in questa sua prima stagione uscita all'inizio del 2022 e composta da nove episodi ci racconta che è possibile nel mondo della serie chiaramente scindere se stessi nel se stesso che si porta a lavoro e nel se stesso che invece vive la vita esterna al lavoro quasi come se si fosse due personalità distinte anzi due persone distinte all'interno dello stesso corpo sì ci sono elementi fantascientifici indubbiamente e questo procedimento la scissione appunto è molto contestata all'interno della realtà raccontata nella serie scopriremo che chi ha vissuto determinate esperienze vuole scindere se stesso in un'altra persona in modo da poter dimenticare almeno quando è a lavoro tutte le cose traumatiche che ha dovuto vivere e vive nella propria esistenza di sempre perché quando ci si scinde o meglio ci si fa scindere la persona che va al lavoro inizia a vivere la propria vita con il primo giorno di lavoro e vive solo ed esclusivamente la vita lavorativa senza sapere niente di quello che fa il se stesso al di fuori del lavoro e anche il se stesso al di fuori del lavoro non sa nulla di quello che vive il se stesso al lavoro proprio due persone all'interno di uno stesso corpo due vite scisse per quello scissione e insomma chiaramente è tutto molto più complesso di ciò che sembra non è soltanto una comedy dramedy insomma non saprei come definirla ambientata sul posto di lavoro con toni decisamente fantastici fantascientifici c'è molto di più vedrete veramente cioè è meravigliosa c'è anche una quota misteri mica male all'interno di scissione è un prodotto straordinario veramente realizzato con pochissimo budget perché le riprese sono quasi tutte all'interno c'è un ben stiller alla regia veramente ispirato tutti gli interpreti pochi 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 sono in stato di grazia come si suol dire la scrittura è brillante e geniale bellissima scissione è bellissima è una scoperta straordinaria su una piattaforma di cui non parla quasi nessuno mi raccomando se non avete ancora visto scissione con questa sua prima stagione dovete assolutamente recuperarla recuperatela su apple tv plus e arriviamo infine alla mia serie preferita di tutto in 2022 si slow horses ne avete sentito parlare di slow horses non lo so ma per me è cioè è una roba la amo da morire allora non so se lo sapete ma io la tipologia di prodotto seriale chiamo di più in assoluto è quella tipicamente brit ovvero le serie poliziesche o meglio che raccontano investigazioni in corso compiute da o poliziotti detective investigatori professionali professionisti oppure amatoriali che vanno in onda sulla bbc o itv ovvero i due canali principali della tv britannica ok slow horses invece è un prodotto originale apple tv plus che sembra però perfetto per andare in onda su bbc le mie serie preferite britanniche sono luther con idris elba broad church con olivia colman e david tennant happy valley insomma queste sono le mie serie britanniche preferite e sono le mie serie preferite in assoluto perciò capirete che vedere un prodotto come slow horses su apple tv plus ha spalancato il mio cuore di gioia che cosa racconta slow horses slow horses è tratto da una serie di romanzi dell'autore britannico mick haram e cosa c'è al centro della storia degli slow horses i ronzini avete presente l'mi5 ovvero i servizi segreti britannici che operano su suolo britannico mentre l'mi6 quello di 007 opera su suolo straniero ovvero tutto il mondo tranne la gran bretagna ecco quando degli agenti dei servizi segreti fanno delle cagate vengono sbattuti nella casa del pantano ovvero questo ufficio distante dalla sede principale dell'mi5 in cui devono scontare una sorta di purgatorio per le cagate che hanno compiuto in servizio e slow horses racconta proprio le avventure perché proprie avventure possiamo definirle di questi agenti più o meno cazzoni più o meno sbadati più o meno inefficienti dell'mi5 a capo della casa del pantano o meglio a capo di questi slow horses di questi ronzini c'è jackson lamb una spia famosissima con una storia alle spalle incredibile che non si capisce come sia finita a dirigere con tutte le virgolette del caso queste spie impacciate no questo jackson lamb che è uno dei personaggi migliori che ho visto degli ultimi anni è interpretato da un gary oldman infinito un gary oldman pazzesco e gary oldman è uno di quegli attori che sembra non recitare mai ma semplicemente essere semplicemente vivere e essendo una serie britannica slow horses comprende tutto momenti da ridere da morire con uno humor brit a volte anche un po' triviale a volte altissimo con un sarcasmo un'ironia pungente sempre perciò riderete tantissimo momenti di grande violenza di grande pathos di inquietudine momenti di tremarella quasi personaggi stratificati tantissimo meravigliosi sempre brillanti sempre giusti anche quando sbagliano personaggi straordinari perché le serie britanniche hanno sempre quelle fatte bene intendo dei personaggi che quasi ti sembra di toccare che proprio siano veri no e tra l'altro situazioni improbabili grottesche assurde ma insomma slow horses è veramente tutto quello che i fan come me delle serie britanniche possono desiderare e anche tutti i fan delle serie ben fatte anzi straordinariamente realizzate esattamente come Luther la serie BBC con Idris Elba è molto fredda nella sua messa in scena nella sua regia nella sua fotografia tuttavia questa freddezza riesce a crescere il pathos di ciò che ci racconta ancora di più e soprattutto il calore che emanano i personaggi protagonisti vedrete saprete amare odiandolo o amare amandolo Jackson Lamb un uomo che non si cambia i calzini bucati e non si lava i capelli e soprattutto non fa smacchiare l'impermeabile non si sa da quante generazioni un uomo che adora farsi detestare ma poi alla fine lo amano tutti un uomo che se potesse prenderebbe tutti quanti attestate e non lo fa mai beh se non da un punto di vista verbale per il suo protagonista o meglio per i suoi protagonisti e per i suoi personaggi meravigliosi per le avventure spionistiche un po' impacciate nella prima stagione e decisamente più pro nella sua seconda stagione amerete slow horses perciò recuperatela su apple tv plus ora come ora troverete sulla piattaforma la prima stagione uscita ad aprile di quest'anno se non sbaglio composta da 6 episodi che adatta il primo libro della serie e adesso proprio a fine dicembre sta uscendo la seconda stagione sempre composta da 6 episodi che adatta il secondo libro della serie che roba che roba siamo arrivati al momento delle menzioni d'onore devo prendere la lista per non dimenticarmi niente che sono o degli avvenimenti o dei singoli episodi o dei singoli momenti di alcune serie uscite quest'anno torna boris sì la serie italiana migliore di sempre si pensava fosse finita per sempre invece no e invece torna boris ed è su disney plus e torna per cercare di distruggere non più la televisione italiana bensì la piattaforma streaming su cui si ritrova boris che ha dei momenti di genialità pura dei momenti forse meno riusciti tuttavia col cuore vi posso dire che sono davvero contenta che sia tornata boris mi ha divertito mi ha commosso insomma wow 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 boris nel cuore forever poi torna the crown con la sua quinta stagione secondo me la stagione che almeno a me ha convinto meno in assoluto di quelle viste fino adesso cambia di nuovo il cast e sarà l'ultimo cambiamento perché terminerà the crown con la sesta stagione che uscirà prossimamente per quanto la stagione mi abbia convinto fino a un certo punto devo segnalare il terzo episodio il terzo episodio della quinta stagione di the crown è una delle cose migliori che ho visto quest'anno e tra l'altro potete guardarlo senza guardare tutto il resto della stagione perché è abbastanza verticale nella sua narrazione perciò se non volete recuperare l'ultima stagione di the crown dedicate un po' del vostro tempo al terzo episodio perché è veramente meraviglioso tornano i creatori di dark nel 2022 con 1899 una serie che fa svalvolare il cervello ancora più di dark almeno nella sua prima stagione trovate spiegazioni e teorie robe varie al video qua sopra giudicarla per ora dal punto di vista della qualità è prematuro perché 1899 è tutta basata su raccontarci il mistero raccontarci qualcosa dello svelamento di quel mistero senza raccontarci una beniamata mazza tuttavia a me 1899 è piaciuta un sacco in questa sua prima stagione so che molti non l'hanno apprezzata però ragazzi oh a me questi cruciverba rebus audiovisivi sballano un botto quindi che ce volete fa poi è uscita la prima stagione dell'adattamento del fumetto di Neil Gaiman ovvero The Sandman su Netflix una serie che sotto certi punti di vista mi è piaciuta un sacco sotto altri mi ha lasciato un po' tuttavia secondo me vale una menzione d'onore perché è un esperimento molto difficile che è riuscito secondo me in buona parte ci ha regalato dei momenti abbastanza interessanti che ne dite poi uno shock nel 2022 con la seconda stagione di Bridgerton una stagione in cui si strombazza una volta sola cioè dopo la prima stagione di Bridgerton pensavo di vedere robe super what the numeri che manco al circo invece no una stagione super casta la seconda vabbè comunque Bridgerton sapete è quel mio piacere trash ma vedendo la seconda stagione è un piacere sì sempre ma trash non più tanto mamma mia quando si sconvolgono le certezze di una povera ragazzuola come la sottoscritta poi l'ho scoperta nel 2022 anche se non è uscita nel 2022 Ted Lasso altra serie comedy su Apple TV Plus che racconta di questo allenatore americano che viene chiamato per allenare una squadra di calcio in Gran Bretagna peccato che lui non allenasse una squadra di calcio in America insomma è molto divertente vi consiglio di guardarla in lingua originale come tutte le altre serie vi consiglio sempre di guardarla in lingua originale perché col doppiaggio purtroppo c'è un appiattimento delle diversità e della beltà di molti tratti dei prodotti di intrattenimento inglesi o americani ma qua soprattutto perché insomma l'allenatore americano è molto americano e quindi sentirlo parlare in un italiano standard come gli altri personaggi secondo me va un po' a impoverire il prodotto anche 1899 guardatelo in lingua originale lì è fondamentale altrimenti veramente il prodotto perde tantissimo del suo significato sono uscite due stagioni su Apple TV Plus è stata iper premiata questa comedy capisco perché è molto carina e ok parla di calcio però in realtà potete guardarla anche se non amate il calcio io per esempio non amo decisamente il calcio mi annoia un sacco ma Ted Lasso è quel prodotto che si guarda anche se non amate il gioco del palone ecco poi ultima menzione d'onore non alla serie ma a un qualcosa che la serie involontariamente ha creato nella sottoscritta parlo degli anelli del potere che sapete che come prodotto in sé non mi ha fatto impazzire ma quanto mi ha fatto impazzire la love story trash tra Galadriella e Aldobrando solo chi ha seguito tutti i miei video e le mie live sugli anelli del potere sa a cosa mi riferisco ragazzi ragazzi che love story trash io mi auguro che nella seconda stagione la porti in avanti perché altrimenti c'è no perché no c'è io non la posso accettare che trip che robe che occhiate che momenti di sassus interruptus c'è veramente gli anelli del potere con la love story tossica tra Galadriella e Aldobrando è un prodotto che non potete lasciarvi scappare per tutto il resto ve lo potete lasciare scappare scherzo ovviamente ma per questo no quindi viva gli anelli del potere mai più pensavo avrei detto questa frase quindi queste sono le mie 10 serie preferite più alcune menzioni d'onore che dovevo fare assolutamente per i prodotti usciti o scoperti nel 2022 qual è la vostra serie del cuore di questi 12 mesi e soprattutto qual è il momento più top anche della vostra non serie del cuore e perché proprio la love story tossica trash love love wow wow sassus interruptus tra Galadriella e Aldobrando basta perché ho parlato di questa cosa non dovevo parlarne era stato un video così compito fino adesso e ho mandato tutto in vacca vabbè in fondo Galadriella e Aldobrando love forever